Questo è un progetto nuovo che parte per la prima volta quest'anno e che siamo riusciti a portare avanti davvero con una grande partecipazione e una grande disponibilità da parte dei quartieri, che sin da subito si sono messi al lavoro per raccogliere quelle che erano le esigenze che venivano fuori dal territorio, hanno coinvolto associazioni, il terzo settore, pensando a dei progetti che potessero dare delle risposte. Tutti i quartieri hanno lavorato davvero molto bene, purtroppo ne potevamo sin dall'inizio finanziare soltanto tre, quindi tre o quattro, sapendo che le risorse erano 100 mila e che di fatto si realizzava una sorta di contest. Quattro progetti meritevoli, ma in realtà sarebbero stati tutti da premiare, i quattro che la commissione tecnica e poi la commissione bilancio ha deciso di attribuire un punteggio più elevato, sono il progetto di Villa Fastigi e Villa Ceccolini, che fa dell'inclusione sociale tramite lo sport, il filo conduttore di una serie di interventi che andranno a riqualificare le aree sportive, il campo da tennis, un'area fitness, uno sgambatoio, insomma un bel progetto sicuramente che trova anche dei finanziamenti esterni. Un secondo progetto, quello dei Borghi, che mette insieme anche qua i cinque quartieri all'interno di Candelara, seguendo il lavoro di un quartiere operoso, quindi mettendo insieme, realizzando cinque aiuole nei cinque ingressi dei Borghi, aiuole millifere, quindi per la produzione del miele da parte delle api e incentivare anche la presenza delle farfalle, mettendole insieme, come dicevo, insieme a dei laboratori didattici, quindi laboratori didattici sulle api, sul miele. Poi un terzo progetto è quello di Pantano, che va a riqualificare una delle aree verdi più importanti di Pesaro, che è il Parco Trulla, quindi andremo anche qua a investire sulla realizzazione di un campo sportivo, quindi sistemare il campo da calcio esistente, andare a realizzare un'area fitness, sistemare lo sgambatoio e poi un quarto progetto, che è quello di Muraglia, che fa invece un investimento importante, che coinvolge anche le associazioni di Muraglia, la società sportiva, che andrà a sistemare tutta quell'area sportiva che presenta su Via Madonna di Loreto, nella zona di Calcinari, con la realizzazione di spogliatoi, quindi di container per i bambini, per i ragazzi che poi andranno alla scuola a calcio, ma anche per tutti i cittadini che vorranno utilizzare quel campo, oltre all'area verde, che è di fatto un'implementazione dell'area a supporto dell'asilo e dell'area giochi che è a disposizione di tutti, quindi un bel progetto, sarebbero stati da premiare tutti, però sicuramente bisognava individuarne quattro e già nella primavera del 2022 penso che riusciremo a vedere concretamente questi progetti realizzati.